Un'offerta senza limiti, intrattenimento, inchieste, show, divulgazione, tutti i linguaggi possibili con un unico obiettivo, raccontare storie. Andiamo, andiamo. Ragazzi, quest'anno sarà veramente intenso. Secondo voi sono ridicolo? Non più del solito. La sua scrittura come lui è misteriosissima. Quali sono le skills che serviranno per i lavori del futuro? Percepire sensazioni tattili durante un'esperienza digitale. La transizione energetica è la più grande sfida che l'umanità abbia mai affrontato. Oggi io parlo di attivismo e collaborazione. Questo viaggio racconta otto voci, sono le voci fuori dal coro. Mi trovo sull'Etna per la nuova stagione dei Messieri di Mirko. Potresti farci il tuo famoso gesto che ti ha resta famosa? Nel 2003 nasceva 6-1-0. Come dicevate, mi arriverà. Storie che nascono digitali e in grado di vivere su tutti gli altri media. Con la forza di coinvolgere e incuriosire ogni tipo di pubblico. Perché la RAI non smetterà mai di cambiare. Vi promettiamo un viaggio senza fine. Contenuti digitali e transmediani. I nostri programmi. Il vostro futuro.